Assessore Santoro, la Regione Friuli Venezia Giulia ha prorogato il contratto con Trenitalia per il servizio ferroviario regionale. Si tratta di una proroga tecnica di due anni, tesa a garantire il servizio in attesa appunto del nuovo contratto che dovrà essere estripulato. Un servizio che per i due anni viene garantito nel territorio del Friuli Venezia Giulia con una serie di innovazioni. Da un lato la riapertura all'estate del 18 della Cervigliano-Udine anche nei fini settimana, ma poi anche il rafforzamento di alcune linee come la Udine-Sacile-Trieste o la Udine-Cervigliano-Trieste. La Tarvisio-Udine proprio per garantire una maggiore integrazione, una sempre maggiore integrazione con la Cicovia-Alpe-Adria. E poi il raccordo con Lubiana, un ulteriore rafforzamento di tratta e ferroviarie che sono divenute importanti nella strategia complessiva della nostra regione. Un importante risultato per cui devo ringraziare gli uffici sia regionali che di Trenitalia, perché il passaggio da contratto a catalogo a contratto in rendicontazione è un passaggio che anche dal punto di vista economico va incontro alle esigenze dei cittadini.